Una preghiera per la Chiesa, per tutto il popolo di Dio, perché il Signore ci salvi dalla corruzione. Così Papa Francesco ha concluso l'omelia della Messa del Mattino, celebrata a casa Santa Marta, nella quale ha commentato l'episodio biblico di Davide e Bezzabea. Per avere la donna, il re fa morire in battaglia, il marito Uria, dopo che tutti i piani per coprire l'Alguterio sono falliti. Davide, invece di pregare e chiedere perdono a Dio, commenta il Papa, pensa, io ce la faccio, e fa morire un uomo giusto per coprire il suo peccato. E così passa dal peccato alla corruzione, che è il peccato più facile per tutti noi che abbiamo qualche potere, perché il diavolo ci fa sentire sicuri e non bisognosi del perdono di Dio. Il Signore sempre perdona, ma una delle cose più brutte, una delle cose più brutte che ha la corruzione è che il corrotto non ha bisogno di chiedere perdono. Non si la sente di bene, perdono. Facciamo oggi una preghiera per la Chiesa, incominciando da noi. Per il Papa, per i Vescovi, per i Sacerdoti, per i Consacrati, per i fedeli laici. Signore, salvaci, salvaci, salvaci della corruzione. Peccatori sì, Signore, ma corrotti mai. Chiediamo questa grazia. Grazie. 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 Grazie.